Sì, da bambini siamo abituati a periodizzare i cellulari, internet, telefoni, ma anche i videogames e quant'altro. Anche a livello sociale si può dire che siamo sempre connessi e siamo sempre stati connessi, perché sin da bambini abbiamo stretto legami con altri individui e abbiamo condiviso le nostre esperienze con altre persone. Essere connessi è importante perché ci permette di metterci in comunicazione con il mondo. Le dispositivi digitali preferiscono lo smartphone perché racchiude moltissime funzioni e possiamo fare tutto quello che vogliamo. Attraverso lo smartphone possiamo fare foto, condividerle su social, facebook, twitter, instagram, ma anche fare acquisti online o intrattenerci con varie applicazioni o giochi. Ma in realtà siamo davvero sicuri di conoscere tutte le funzionalità che il nostro smartphone ci può offrire. La scuola di oggi è distante dal mondo dei ragazzi, soprattutto dal mondo digitale, e quindi vorrei che il mondo della scuola appunto si avvicinasse a questo mondo digitale solo dai ragazzi. La scuola di oggi è la scuola di oggi. La scuola di oggi è la scuola di oggi.